eccolo qui ragazzi Marvin Vettori contro Brandon Allen c'è già la locandina c'è già il poster della UFC Marvin Vettori contro Brandon Allen ufficiale per il 6 di aprile sarà 5 round main event main event quindi della fight night che dovrebbe essere UFC Vegas 89 e dovrebbe svolgersi quindi all'Apex di Las Vegas unica parte che non mi piace tra l'altro secondo main event consecutivo all'Apex sia per Marvin che per Brandon Allen e però comunque è un altro spot importantissimo è un altro main event fight night la settimana prima fe altro di UFC 300 perché il 6 aprile UFC 300 sarà il 13 di aprile uno spot importantissimo anche per dar da parlare ovviamente andando verso UFC 300 quindi sinceramente anche come tempistica è perfetta avevamo anche detto nei video che non soltanto ci aspettavamo che questo sarebbe stato il match up e lo credevamo in match up migliore al netto comunque dei rischi perché è un avversario molto rischioso Brandon Allen ma avevamo anche detto che in termini di tempistica effettivamente magari si rischiava più aprile che marzo visto che il tempo comunque stava passando effettivamente sarà il 6 aprile main event ed è una cosa importantissima ovviamente questa ragazzi è una notizia fantastica è una notizia che aspettavamo da tanto quella del ritorno di Marvin in generale chiunque fosse l'avversario e sinceramente io sono molto molto contento che l'avversario sia Brandon Allen Brandon Allen che arriva con un hype clamoroso, clamoroso lo sappiamo, riduce dalla vittoria importantissima e devastante contro Paul Craig nel suo main event qualche settimana fa, qualche mese fa, non ricordo esattamente adesso la data comunque Brandon Allen numero 8 nei ranking in paesi medi, Marvin ancora in top 5, numero 5 ovviamente per la situazione in cui è Marvin i ranking contano fino a un certo punto ma io preferisco un'opzione in cui c'è un avversario che arriva con tanto hype in alto nei ranking che sta facendo una scalata e una striscia di vittoria importante con tanto di finalizzazioni perché adesso Marvin può provare a dare tutto, a fare di tutto per spingere indietro l'hype di Brandon Allen e per prendersene un po' ovviamente una vittoria è di fondamentale importanza Brandon Allen che ha condiviso nelle sue storie la locandina del match, i poster del match e ha scritto che lo farò sembrare facile, farò sembrare facile anche questo vedo un po' di pessimismo sinceramente per questo match e comunque da parte dei fan di Marvin dico vedo proprio tanto pessimismo e questo è un match tosto, è un match sicuramente tosto però sinceramente lo preferisco rispetto a un match come quello con Shara Bullet di cui si era parlato io personalmente sono sempre stato più dell'idea che la UFC potesse andare verso un nome come quello di Brandon Allen e ne avevamo anche parlato in vari video anche nelle live preferisco quello di Brandon Allen perché comunque tu stai affrontando un fighter che viene da 6 vittorie consecutive con 5 finalizzazioni, tutte per sottomissione, Rirnick e Chock e altre tutte quante e ha un grandissimo hype, Shara Bullet imbattuto, debutto in UFC in cui aveva dimostrato comunque i suoi lati positivi però aveva un po' perso l'hype che aveva inizialmente in realtà prima del debutto perché ha mostrato di avere una difesa da takedown nulla pericoloso schiena a terra, insidioso, però con tutte queste insidie era pure fuori dai ranking quindi praticamente andavi a giocartela un all-in, perdonate il gioco di parole con il soprannome di Brandon Allen mandavi veramente all-in e erano molti di più i rischi rispetto ai possibili benefici in caso di vittoria contro Shara Bullet contro Brandon Allen no, contro Brandon Allen se Marvin dovesse vincere ed è di fondamentale importanza una vittoria per Marvin cioè non si può sottolineare abbastanza quanto sia necessario per Marvin vincere stavolta cioè proprio la vittoria è l'unica opzione per citare la Juventus vincere non è importante è l'unica cosa che conta perché deve rialzarsi dopo la bruttissima sconfitta contro Cannonier e ha la possibilità di farlo tra l'altro affrontando quello che contando i possibili concreti matchup per lui era la migliore opzione, quella con più hype, quella di cui si parlerà di più altro main event, 5 round è un'occasione grossa, un'occasione veramente importante per Marvin per rilanciarsi adesso col passaggio American Top Team, con questo cambiamento da un punto di vista di allenamento organizzativo di location, di palestra, di team soprattutto adesso è di fondamentale importanza far vedere tutto quello su cui ho lavorato in questi mesi secondo me si è preso la pausa in termini di tempistiche giusta, praticamente perfetta Marvin nel senso che ci stava a tornare ad aprile dopo aver combattuto a giugno e vedendo che si è preso una lunga pausa, è andato ad allenarsi in vari posti, è andato da Seudo adesso è andato all'American Top Team e ha cambiato team nel mentre comunque c'è sempre il performance in Las Vegas adesso bisogna capire un attimo come si organizzerà per il training camp completo però sembra davvero che Marvin abbia a livello di processo, di apprendimento e di cambiamento fatto le migliori cose che potesse fare che non è andato all'interno